Buongiorno amici, questo è il resto del Carlino Tg edizione del 5 febbraio. Cominciamo parlando di alta velocità, gioia e dolori per questi super treni che attraversano l'Italia. La Frecciarossa ha stabilito ieri nel tratto tra Bologna e Firenze il nuovo record mondiale di velocità in galleria, toccando i 362 km all'ora, ma nel contempo i pendolari lamentano disservizi e disagi per i loro treni provocati proprio dalla Frecciarossa e da questi super treni che attraversano la nostra penisola. Ecco il servizio di Alberto Maio. Gioia e dolori dall'alta velocità ferroviaria, mentre arriva la notizia del nuovo record raggiunto dal Frecciarossa, il treno simbolo della linea, la provincia di Bologna convoca per domani un incontro per discutere dei disagi dei pendolari. 362 km orari in galleria, il record è stato raggiunto ieri sotto il tunnel di Monte Vivelle durante le prove della nuova linea Bologna-Firenze, rappresenta anche il primato mondiale di velocità in galleria. La nuova linea alta velocità Bologna-Firenze sarà operativa dal 12 dicembre prossimo, i collegamenti saranno effettuati in poco più di 30 minuti. Intanto è stata convocata per domani a Palazzo Malvezzi la riunione del Comitato del Nodo di Bologna, l'organismo preposto a vigilare sulla funzionalità dei trasporti pubblici nell'area metropolitana bolognese. All'ordine del giorno c'è l'esame della situazione e delle problematiche connesse all'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario e appunto dell'alta velocità, perché rileva l'amministrazione provinciale i disservizi sulle tratta del servizio ferroviario metropolitano e i disagi per i treni dei pendolari, soprattutto in alcune linee, sono diventati una costante, tanto che continuano le proteste e in diversi casi le rinunce al servizio ferroviario da parte degli utenti, a vantaggio del ritorno al trasporto privato, certamente meno veloce ma quanto pare in certe tratte più affidabile. Bene, passiamo adesso alla cronaca e alla vicenda del Roxy Bar, un vero e proprio giallo per il bar cantato da Vasco Rossi nella sua vita spericolata. Uno dei proprietari ha ammesso che i 36.000 euro che sarebbero stati rubati in realtà non erano presenti dentro il bar. Ascoltiamo come è andata esattamente attraverso le parole del resto del Carlino. Quei 36.000 euro non sono mai esistiti, lo ha detto lui stesso un paio di giorni fa dopo il furto a Roxy Bar presentandosi alla caserma dei Carabinieri di Viale Panzacchi, dove assiede la stazione Bologna. Aveva sotto braccio pure il disegno di Filippo De Pisis, di cui egli stesso aveva denunciato la sparizione in occasione del colpo. Era a casa, non me ne ero accorto. Così Paolino Montalbani, 72 anni, uno dei tre soci del locale cantato da Vasco Rossi, ha ammesso spontaneamente davanti agli investigatori di avere gonfiato il bottino del raid compiuto dai ladri nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana nel bar di Via Rizzoli. Il colpo di scena non è giunto del tutto inatteso perché la presenza della somma era stata negata sia dal socio Oriano Cattabriga che dalla figlia di quest'ultimo Claudio, che li aiuta nella gestione. Alla luce delle emissioni, Montalbani è stato denunciato dai carabinieri alla procura per simulazione di reato. A Montalbani, secondo gli investigatori, avrebbe approfittato del furto per coprire qualche piccolo problema economico. Con il colpo si sarebbe presentata per lui l'insperata occasione di svoltare l'angolo delle difficoltà. Per questo avrebbe detto che in uno degli armadi dell'ufficio c'erano 36 mila euro in contanti corrispondenti a sei mensilità d'affitto del Roxy Bar. Inizialmente lo stesso Montalbani aveva riferito ai carabinieri della probabile esistenza di una polizza di assicurazione contro il furto. La memoria non l'aveva ingannato ma verificando successivamente con l'agente generale aveva scoperto che la polizza era già scaduta da tre mesi e nessuno aveva provveduto a rinnovarla. Ecco quindi il punto su questo incredibile giallo che andrà sicuramente avanti con altri colpi di scena. Ancora cronaca per raccontare la vicenda di un barista egiziano che lavora nel quartiere Barca a Bologna che ha subito minacce, intimidazioni e ora anche una bottiglia Molotov contro il proprio negozio. Sono tanti gli episodi di intolleranza tra esattamente quelli che si sono susseguiti negli ultimi 36 giorni. Vediamo il servizio di Alessio Bertini. Svastiche, frasi razziste, sabotaggi fino alle Molotov. Tre episodi in 36 giorni ha dovuto subire l'egiziano Magdi Makar, titolare del Bar Toni di Via Baldini a Bologna. Questa mattina l'ennesima brutta sorpresa. Una bottiglia riempita di liquido infiammabile era stata lanciata nel locale da una finestra lasciata semiaperta e rogo scatenato. Ha danneggiato le pareti interne e parte degli esterni del palazzo, nel cuore del quartiere Barca. Ritorsioni, minacce razziste o semplici, bravate. Fatto sta che si comincia ad avere paura. È difficile lavorare così, ma il titolare non demorde. Non ho paura, io continuo ad avanti. Questo è terzo. Prima è descritto, il secondo dello scorso ruocchetto è messo la colla dentro e terzo è quello. Sono vivono in 1.036 giorni qua, ha capitato tre. Ma il Bar Toni pare non essere l'unico esercizio nel mirino dei malintenzionati. Qualche settimana fa sono state rinvenute scritte razziste anche sulle saracinesche di una macelleria della zona, sempre gestita da un egiziano. Le forze dell'ordine sono al lavoro e non si esclude di installare un sistema di telecontrollo per monitorare la zona. Apriamo ora il capitolo della crisi economica per parlare dei social card, quella card che è stata proposta e presentata dal governo Berlusconi per aiutare i cittadini più in difficoltà. In realtà ci sono molti problemi nell'utilizzo di questa card, come vedremo dal servizio che segue, e c'è anche una denuncia della CGL che dice che queste card, in riferimento al numero di coloro che ne avrebbero bisogno, sono davvero poche sul nostro territorio. Ecco il servizio di Alessio Bertini. La signora Malvina, classe 1920, residente a Bologna, è una beneficiare della social card, o almeno così credeva di essere. Per averla ha fatto pervenire all'Istituto di Previdenza Sociale il suo reddito ISEE. La domanda è stata approvata tutto regolare, ma quando un'anziana signora una mattina fatta la spesa va alla casa per pagare, la brutta sorpresa, la card non funziona. Motivo? A Roma è arrivata comunicazione di un'indennità di accompagnamento concessa alla donna dopo la presentazione della domanda per la social card. Tra intoppe, ambiguità e posizioni respinte, finora denuncia la CGL, in Emilia e Romagna sono state concesse quasi 10.500 carte. Poche, continua il sindacato, soprattutto per chi sono distanziati dal governo, non serviranno a beneficiare tutti quelli che ne hanno bisogno. 1.300.000, aveva detto Tremonti, per la CGL saranno 800.000 persone. Anche perché, a quanto pare, dei 480 milioni di euro messi dal governo, 26 milioni vanno a Mastercard, il circuito su cui è attivata l'iniziativa, uno spot mediatico, denunciano da Bologna. A Bologna invece le teste rilasciate sono poco più di 2.000, su 3.500 richiedenti. In realtà le persone che si sono mosse e illuse da questa manovra molto propagandistica del governo sono state molto di più. Finisce qui, amici, il resto del carrino TG del 5 febbraio. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.